Siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta, ognuno vale il pane, siamo cittadini, punto e basta, ognuno vale il pane, ognuno vale il pane, ognuno vale il pane, ognuno vale il pane. Milano, ci siamo! Ragazzi, ragazzi, un conto alla rovescia per Beppe con un bel boom per salutarlo. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, boom! Fantasico! C'è poca gente, pensavo qualche cosina di più. Allora, io vorrei dirvi una cosa, non so se mi sentite, benissimo, benissimo, è fantastico. Allora, abbassami un po' i toni, abbassami la spia sulla tappa. Allora, signori, il cambiamento è già avvenuto, è inutile che ci diciamo delle altre cose, è già avvenuto. È già avvenuto, è già avvenuto, sento in questa piazza che ci sono stati altri comizi, infatti si sente un po' di odore di naftalina. Però, però, io sto arrivando, guardate che sta cambiando alla velocità della luce, è già cambiando. Stiamo, stiamo, stanno avendo delle reazioni strane. Se mi sentite, io so che ci siete, io so che siete nascosti qua, io so che ci state osservando. Allora, il mio grido, il mio grido è, il mio grido è, arrendetevi! Siete circondati dal popolo italiano, non ce la fate più a fermare, è un'epidemia. Arrendetevi e io vi prometto che non useremo nessuna violenza su di voi, solo affetto, amore. Come i malati di mente, vi accarezzeremo. Vi accarezzeremo e prima di mandarvi a fare dei lavori socialmente utili, voi dovrete fare una cosa. Se vi sentite, dovete andarvene, dovete andarvene finché siete in tempo, democraticamente. Dovete andarvene, dovete andare. È fantastico! Guardate, guardate che... E sono lì, sono lì, sono lì, sono lì, sono lì accovacciati, sono lì e non riescono a capire cosa gli sta succedendo. E non è Beppe, non è Beppe, non è Beppe, non è Beppe, è un sogno, è un sogno che stiamo condividendo con milioni di persone. Lo stiamo condividendo, questo non è un comizio di un leader, di un partito e voi siete venuti a sentire. Questo è uno scambio di altre cose che non c'è mai stato in Italia. Uno scambio di affetto, uno scambio di comunità verso un'altra comunità. Guardate come ci siamo trasformati noi. Era imprevedibile questo, io non l'avevo capito. Io giro con... non è più neanche un movimento Cinque Stelle, guardatele un po'. Guardate questi cittadini messi lì, chi se l'aspettava tre anni fa? Io giro con un camper che mi hanno prestato. Mi mettono in macchina prosciutti, salami, torte, pasta fatta in casa, che io scambio col camper quando vado a fare gasolio. Tre salami in 50 litri, è fantastico. Poi vado a dormire da amici, dormo da amici, mangio nei ristoranti di amici, dormiamo nei bed and breakfast. Ognuno di voi ha dato una mano qua per fare il palco, quello delle luci, delle voci non ha voluto niente. E ognuno dà una mano. Abbiamo persone che lavorano ininterrottamente con me. Lui, lui è salvo. Quello che manda, quello che manda in streaming, quanti siamo salvo? Allora, allora stiamo superando qualche cosa che era in immagini, ma... Allora siamo in 22.000 in streaming. E con la cosa, la cosa. Ed è fatto col suo lavoro. È fatto, lui non vuole niente. Ha chiesto aspettativa alla sua azienda. Viene qua, insieme a Pietro, insieme a Walter, insieme ai due ragazzi che sono in studio a trasmettere questo streaming. Dove sono? Dove siete? Matteo, Matteo e Fulvio. Matteo e Fulvio, bene. Questo è l'evento in streaming più seguito su YouTube nel mondo. È pazzesco. E allora, ecco che non se l'aspettava nessuno. Io oggi sto girando e ho il cuore aperto. Sono anche stanco, ma stanco ma felice. Ho il camper pieno di biglietti, pieno di biglietti di ognuno di voi. Gente che perde il lavoro, gente che non ce la fa, cinquantenni che non sanno come fare, mia moglie è malata, mio figlio è indicappato. Non riescono a sopravvivere e danno l'incarico a me. Fai qualcosa, fai qualcosa. Pensate come mi devo sentire io. Sono pieno di roba, mi si sono incatenati al parco, gente che a Firenze si va a mangiare alla mensa, italiani, padre e madre e figli vestiti anche bene, con lo sguardo basso. Attraverso città incredibili, da Ivrea, Ivrea è una città come Cernobi, non c'è rimasto più niente. Ha chiuso la più grande azienda mondiale, mondiale di informatica perché c'è stato un grande manager che si chiama De Benedetti e non c'è rimasto più niente. Più niente, più niente. Va da Biella i tessuti, non c'è rimasto città fantasma, chiudono i negozi, piccole attività di 50-60 anni che chiudono. Mi ha abbracciato a Prato, mi ha abbracciato un cinese e mi ha detto non ce la faccio più neanche io. Allora, qui la gente si ammazza, qui la gente si ammazza, siamo in emergenza, non c'è più tempo. O ci trasformiamo adesso, in pochi giorni, in una comunità e dobbiamo dare qualcosa uno con l'altro, dobbiamo per forza fare così. E bisogna dare un segnale forte a questa gente che è in televisione a prenderci per il culo con i loro sogni, che ormai è troppo tardi. E il segnale, il segnale, se ne devono andare tutti a casa. E prima, e prima, prima di andare a casa, prima di andare a casa abbiamo un diritto. Abbiamo un diritto, hanno fatto il redditometro su di noi, gli scontrini, nei bar, i tassisti, i farmacisti, ci hanno messo uno contro l'altro, categorie contro l'altro. Abbiamo un diritto, hanno fatto il redditometro, glielo facciamo noi prima di andare via. E se mi sentite, se mi sentite preparati i documenti, perché prima di andare via faremo un politometro, il politometro. Semplice, semplice, sono tutti ingegneri informatici qua. Allora, si tratta di incrociare un centinaio di dati, è un software, ce l'abbiamo già provato, lo daremo alla finanza. Bene, si tratta di vedere il patrimonio del politico quando è entrato in politica vent'anni fa, il patrimonio del politico quando uscirà dalla politica il 27 e il patrimonio del politico durante il suo regno politico. E se i dati non coincidono, se i dati non coincidono, beh, la magistratura interverrà, la finanza interverrà e prenderemo quello che si sono mangiati. Quello che si sono mangiati un paese, due generazioni, si sono mangiati la vita di migliaia e migliaia di persone. Abbiamo diritto a un risarcimento, guardate che non sono parole dette così, è un comizio. L'abbiamo fatto, nessuno si aspettava che a Parma entrasse una giunta del Movimento 5 Stelle, nessuno. Ci sottovalutano sempre e quando andiamo lì rimangono spigottiti. Bene, che cosa è successo? Parma aveva un debito e ha un debito di 950 milioni di euro, 200 mila persone. Siamo entrati, beh, la giunta 5 Stelle, il sindaco si è costituito parte civile subito per i danni. La magistratura ha aperto un'inchiesta e 20 giorni fa è stato arrestato il sindaco della giunta precedente e sono stati sequestrati beni immobili per 3 miliardi e mezzo, per 3 milioni e mezzo. Ma è incredibile. Allora sta finendo un'epoca, sta finendo un'epoca, non hanno capito, non hanno capito, si vogliono coalizzare. E allora zampettano in un talk show, zampettano il nano che ha letto in televisione il programma delle 5 Stelle. Ha letto lui, l'ha letto lui, Dio mio, è meraviglioso, Dio. Ha detto che bisogna fare politica non per i soldi, ma per passione. Ha detto lui che il PDL deve avere delle liste senza condannati. E che cazzo si scrive allora a quelle liste? Stanno vaneggiando, è troppo tardi. È troppo tardi! Guardate che io vi dico solo quelle cose che abbiamo già fatto. Mi conoscete, sono 40 anni che lavoro. E perché sono qua? E allora sto vivendo veramente, gli ultimi 5 giorni, sono 70 comizi che ho fatto in tutta Italia. No, 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 voglio breve, no, 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 no. Ma voglio dirvi che adesso sono 5 giorni di fuoco. Di fuoco le tentano tutte, le tentano tutte depistando con il Tg1 e il Tg3. Il Tg1, ad esempio, sul suo sito ha fatto una cosa vergognosa. Ha detto ai nostri migranti che è finito il tempo, la legge diceva che potevano votare sino al 14 febbraio. Non è vero, possono votare sino al 21 febbraio. Lo fa il Tg1, è il sito del Tg1, la nostra RAI, che è collusa con questa gente qua. Allora, è incredibile, è incredibile. La RAI, 7 mila dipendenti, 200 milioni di deficit e ci teniamo tre RAI per farci prendere per il culo. Ne basta una, senza politica e senza sponsor. Ieri il Tg1 è stato bellissimo, perché hanno le telecamere basse, vedi? Allora mi inquadrano sempre, ingobbito, è chiaro, ingobbito dal basso verso l'altro. Ho sempre delle espressioni. Ah, così, non ho una foto. Chi sei tu, maledetta? Sono dei nostri. Chi sai, sei dei nostri. Allora c'era il Tg1 a Torino, a Torino c'erano 70 mila persone. Sta a sentire, c'era il Tg1 in mezzo. Vedo la telecamera che spunta e dico, chi siete Tg1? Ma fai vedere un po' la piazza, c'è 70 mila persone, sei in diretta, mi inquadrava quattro vecchi davanti e me da solo. E noi stavamo guardando, ci arrivavano i Twitter da qui, perché la comunicazione ormai è globale. Stavamo vedendo in diretta quello che trasmetteva il coglione lì, hai capito? Allora, allora, è pazzesco. Allora dico, alzate la telecamera. Fai una zoomata, no? Fai vedere quanta gente c'è per soddisfazione ai tuoi spettatori. No, 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 come no? E' andato lì lì, l'hanno sollevato e ha dovuto fare una panoramica. Mentre faceva la panoramica, ha messo la pubblicità. Lì sono arrivati milioni di vaffanculo a tutto il Tg.com e che se la portino via. Questa informazione collusa, vergognosa. Io non so se rimarrò senza voce stasera, perché non ho la spia sul palco. Però io vi dico che queste cose le ho sempre fatte a prescindere dal movimento. Io sono sempre quello. Sono sempre quello che parla di queste cose da vent'anni. Da vent'anni potevo starmene a casa. Potevo starmene a casa mia. Mi avete fatto vivere quarant'anni di sogno. E io mi ricordo quando facevo questi spettacoli a Milano, nei palazzetti, con un pubblico così, a pagamento. Dio mio che ricordi che ho... Bene. Potevo starmene a casa. Mi avete fatto vivere benissimo. Potevo starmene a casa a vedere i miei sei figli, due dei quali che se ne vanno, che partono. Uno va in Nuova Zelanda, l'altro in Marocco, l'altro in Australia. Potevo starmene lì. Anzi, dire andate, che è un paese rovinato questo. Andatevene. Potevo starmene lì. Poi ho detto, ma io devo contraccambiare. Ora vi sembra un discorso melesso. Ma è questo che ho pensato io. Ho avuto di più di quello che potevo meritare. Ed è giusto che io possa contraccambiare in qualcosa. venire qua e aiutare loro. Venire qua e aiutare molte persone. È bellissimo. Ed è bellissimo questo. Ed è bellissimo. Se ognuno di noi dedicasse una parte del proprio lavoro, del proprio tempo agli altri. Questo paese lo cambiamo in due anni, immediatamente. E invece questo li spiazza. Chi c'è Grillo? Chi c'è dietro Grillo? Chi c'è dietro Casaleggio? Le famose domande che non vuoi rispondere. Chi c'è dietro? La GP morga? La massoneria. Ci sono persone dietro. Ci sono io dietro di me. E dietro Casaleggio c'è Casaleggio. Due persone che fanno qualcosa per gli altri senza averne un rientro economico. E questa cosa qui non riescono a capire. perché non ce l'hanno nel loro DNA. Devono sempre sospettare che guadagni qualcosa. Ma io posso dire quello che voglio. Ma è la mia vita che parla. La mia vita. La mia vita. Io andavo con una macchina con un litro 100 km davanti ai cancelli della Fiat. Se vi ricordate. Nel 1995. E andavo lì davanti ai cancelli con una macchina che con un litro e mezzo faceva 100 km derivata dalla Twingo della Renault. Modificata da due ingegneri tedeschi. Le ho portate davanti ai cancelli di Torino della Fiat. Ma perché non fate una macchina così? Se non fate una macchina così fra dieci anni chiudete. Non mi hanno fatto neanche entrare. I sindacati si sono opposti che io entrasti a far vedere le cose. E allora i sindacati hanno la loro responsabilità. I grandi sindacati CIS, Lui, il CGL hanno la responsabilità che hanno avuto i partiti nella disintegrazione del lavoro in questo paese. E allora non scopriamo niente. Non scopriamo niente. L'ho sempre fatto queste cose qua. Parlavo della Parmal un anno prima che fallisse. E non c'era un telegiornale che diceva due minuti dedicasse due minuti a un dissesto finanziario che era il più grosso d'Europa all'epoca. Ero io che andavo per le piazze perché tutta la comunicazione e tutta l'informazione era sulla busta paga di tanzi. Ecco perché quello è il nostro. Ma è tutto così. È tutto così. E io giravo, giravo, gridavo, ma gridavo nei palazzetti, gridavo per le strade. Poi compravo e io sono matto. Compravo due azioni. andavo alla Telecom perché hanno disintegrato un'azienda strategica, la Telecom. L'hanno comprata a debito. Hanno disossato tutto quello che c'era. Centomila miliardi di immobili. Il più grande parco automobilistico d'Europa. Non c'è rimasto nulla. Ci sono entrati questi tronchetti provera. e adesso fanno finta di non sapere che hanno intercettato migliaia di persone che avevano il potere in mano. No! Hanno disintegrato tutto. Non c'è rimasto niente. Siamo al 78esimo posto come velocità di upload e di download dopo la Tunisia. Ma avremo una roba. Cazzo, ma Obama, Obama, tre giorni fa, dice che in due mesi, in due anni, vuole fare un super wifi libero e gratuito per tutti gli Stati Uniti. Noi è la prima e la seconda stella del nostro programma. Il libero wifi. L'ingresso alla conoscenza libero e gratuito per diritto di nascita. Sono andato a gridargli qualcosa a questi manager che hanno lasciato 30.000 famiglie sul lastrico. Sono andato ma scappava Tronchetti. Scappava. Scappava. Non aveva il coraggio di affrontare. E scappavano chi con 80 che con 90 che con 100 milioni di euro. Basta. Basta questa storia degli amministratori delegati che guadagnano 1.500 volte il proprio dipendente. C'è adesso in Svizzera un referendum del governo federale svizzero per abbassare questa forbice perché non è possibile che in Italia un manager di Unicredit o di Fiat guadagni 1.500 volte il suo operaio o il suo impiegato. abbasseremo la forbice 1.12 12 volte e basta la paga del tuo impiegato che guadagna meno. Ma è incredibile il suo paese. Sta morendo tutto. Sta morendo tutto. E questi prendono se ne vanno. Profumo se ne è andato da Unicredit con 40 milioni. ma il profumo l'ho visto recentemente. L'ho visto recentemente perché avevo quattro azioni del Monte dei Paschi di Siena perché mi sembrava di aver fatto un buon investimento. La mia banca non le prenda. Ho perso 18 euro io e allora sono andato 15 giorni fa a parlare agli azionisti. C'era l'assemblea degli azionisti io avevo quattro azioni sono andato alle 6 del mattino mi sono messo la giacca la camicia bianca mi sono pettinato mia moglie ha detto lei chi è? Cioè sono entrato alle 6 del mattino e ho visto gente migliaia di gente che piangeva ma cosa c'è? Perdiamo il lavoro erano gli impiegati del Monte dei Paschi 30 o 40 mila a casa poi ho visto altri impiegati che piangevano di più ma perché piangete di più? è perché il nostro TFR non c'è rimasto più niente ce l'hanno fatto investire nella nostra azienda ci abbiamo lavorato 20 anni l'abbiamo comprato investito a 5 euro 5 euro ad azione ora vale 0,22 non c'è rimasto più niente poi vado dagli azionisti anche loro con gli occhi gonfi perché non avevano più risparmio e gli unici tranquilli era il CDA del Monte dei Paschi con profumo messo lì a sanare la situazione lui che è indagato per frode fiscale cioè perfetto l'ha messo lì tranquilli allora io inizio inizio con la voce calma buona sai non mi riconoscevo neanche io dico non devo gridare non devo sudare devo essere evangelico e dico avete preso questa bellissima banca c'era una volta una banca la più antica del mondo il Monte dei Paschi di Siena e questa banca prima del 95 valeva 20 miliardi di euro oggi meno di 2 miliardi e sta andando giù avete preso questa banca nel 95 avete fatto una fondazione e ci avete messo delle persone elette dalla regione Sicilia dalla regione Toscana dalla provincia Toscana e dal comune di Siena tutti i DS e tutti i PD li avete messi lì e questa gente che cosa ha fatto ha preso dei beni che non erano loro li hanno presi perché aveva 20 miliardi di capitali aveva palazzi aveva assicurazioni aveva tenute era una delle terza banca d'Italia una delle più ricche e antiche e avete preso questi beni non vostri e li avete aperti al mercato con una SPA facendo entrare i vostri amici questi principi azzurri del grande capitalismo italiano i Caltagirone i Gnutti che come sono entrati si sono spolpati tutto non c'è rimasto più niente hanno espropriato beni che non erano loro e non c'è rimasto più niente non paghi non paghi perché avevano venduto un sacco di cose allora si mettono a comprare e comprano una banca Anton Veneta per magari fare un piacere ai leghisti in Veneto sai come sono tra partiti banche no e allora comprano quest'Anton Veneta che valeva 3 miliardi sul mercato la pagano 10 dove sono i 7 allora e oltretutto la pagano 10 una banca che vale 3 e si accollano 7 miliardi di debito dell'Anton Veneta quindi una minus valenza se la caricano sopra una banca che non c'era più niente quindi 10 meno 3 7 più 7 di perdita che aveva già l'Anton Veneta quando l'hanno presa 7 più 7 14 guardo in faccia profumo e dico scusi avete un buco di 14 miliardi di euro mi guarda ma con una una freddezza incredibile mi dice buco ma scusi dove ha preso questa informazione questa questa sufficienza denota che loro sono già tranquilli di come andrà a finire hai capito non hanno dimostrato una minima paura niente e mentre io dicevo 7 e mi guardavo attorno forse ho sognato la procura la procura di Siena andava avanti e hanno scoperto con le loro tangentine che arrivavano da Londra che il buco non è 14 miliardi è 21 miliardi 21 il più grande scandalo finanziario della storia di questo paese due volte la parma due volte due volte cazzate di qua il giaguaro sono il leone tu con chi ti ha lei queste cazzate qua e mentre noi parliamo di cazzate che cosa fa il governo da 3,9 miliardi quasi 4 miliardi la nostra la nostra la nostra la nostra la dà alla banca perché le banche non possono fallire ed è giusto le banche non falliscono è uno simoro se fallisce una banca falliscono migliaia di famiglie che hanno investito lì non si può far fallire la banca ma si può fare un'altra cosa quello che fanno in Gran Bretagna per esempio si nazionalizza una banca si nazionalizza si prende fermi si prende come hanno fatto con la Rocky Bank in Gran Bretagna si prende si prende con tutto il debito a due condizioni due condizioni ce le prendiamo noi uno che si faccia una commissione e si metta sotto processo tutti i vertici del PD dal 95 a oggi prima e poi un'altra un'altra commissione un'altra commissione che metta sotto inchiesta e sotto processo chi doveva controllare la Banca d'Italia Draghi la Conso hanno fatto la sinistra Gargamel ha detto che lui non si è accorto di niente ma come fa andare a governare uno così se non si accorge del fallimento epocale di quella banca lì ma è così e adesso capiamo lo scudo fiscale capiamo perché il PD non è andato a votarlo in massa poteva cadere il governo Berlusconi poteva dire di no a una legge vergognosa invece lo scudo fiscale che faceva rientrare i capitali dall'estero è servito anche a loro a ripulirsi i capitali pagando il 5% di tasse a te ti fanno fallire come una merda e loro il 5% si sono portati indietro le tangenti questo è il nostro paese bene bene ma Dio mio stiamo alle elezioni sono coinvolti tutti non solo il PD Gianni Letta la GP Morgan ha dato in carico a Gianni Letta che non sa niente di banche per comprare l'Anton Veneta Mussari l'amministratore delegato ha dichiarato che lui non sa un caso di banche non sa neanche fare un bonifico li mettono lì apposta per eseguire gli ordini ma in un paese normale in un paese normale se avessimo avuto un presidente della Repubblica normale che avesse dato che avesse che avesse dato un pugno sulla scrivania e avesse detto fuori tutti i nomi i nomi siamo per andare a votare e votiamo gli stessi che hanno disintegrato questo paese fuori i nomi io vorrei un presidente così che dicesse voglio i nomi di chi ha fatto lo scudo fiscale se non lo fa il presidente della Repubblica lo faremo noi come Movimento 5 Stelle signori hanno spolpato tutto non c'è rimasto niente non c'è rimasto niente non c'è più tempo veramente non c'è più tempo arriva la gente si ammazza la gente si legge ma no veramente ognuno ha un proprio problema personale drammatico bisogna intervenire perché il lavoro il lavoro tutti che mi dicono grillo il lavoro arrivano le categorie da me non hanno capito arrivano le categorie i farmacisti i notai i commercialisti che mi dicono allora grillo noi siamo 20.000 lei che cosa fa per noi perché così vediamo se darle il voto o no guardate che avete sbagliato la domanda io non faccio voti di scambio voi se siete così venite nel movimento vi iscrivete vi mettete così vi votano andate in Parlamento voi e portate avanti l'interesse della vostra corporazione dobbiamo toglierci questa roba qua la prima cosa da fare il lavoro il lavoro il lavoro questa parola che tormenta chiunque il lavoro il lavoro è diventato una parola terrificante il lavoro ma che cos'è il lavoro ma il lavoro deve essere deve essere una parte importante della tua vita ma non la tua vita il lavoro ce lo dovremo reinventare ce lo dovremo guardate che guardate il PIL il nostro prodotto interno lordo un terzo del PIL è fatto con il lavoro che facciamo per fare cose che crollano un altro terzo è fatto con il lavoro che facciamo per riparare le cose che crollano quindi il beneficio del nostro lavoro è un terzo del nostro PIL potremo lavorare un terzo in questo momento in Germania non sono io il comico il populista demagogo i più grandi telegiornali televisioni tedesche giornali stanno parlando di orario di lavoro di scendere alle 30 ore se non scendiamo orario di lavoro non ce la faremo mai mai allora allora io voglio una visione una visione di lavoro voglio una visione a 20 anni a due generazioni ecco che cosa deve essere la politica io arrivo dal Sulcis Sardegna la zona più depressa d'Europa come reddito pro capite il lavoro sai qual è il lavoro lì? fare il minatore a mille metri a cavare un carbone di terza scelta che lo lasciano bruciare lì per 1300 euro al mese e prendersi la silicosi a 50 anni questo è il lavoro secondo voi è il lavoro oppure ti sputi sangue come famiglia fai studiare tutti i figli li fai laureare il master e se ne devono andare dal paese perché se rimangano qua il lavoro qual è per un laureato andare in un consenter a 500 euro che ci vadano i figli della Fornero a lavorare lì noi abbiamo bisogno abbiamo bisogno immediatamente immediatamente abbiamo bisogno immediatamente di un reddito di cittadinanza il reddito di cittadinanza a chi non ha lavoro a chi lo perde per forza e ci guadagneremo anche togliamo sta cassa integrazione perché devi andare in cassa integrazione e stare a casa umiliato così senza fare niente io ti do un sussidio ti do un reddito di cittadinanza se perdi il lavoro e ti do il tempo di cercarlo entreremo noi nello Stato nei centri di formazione nei centri che quelli che danno il lavoro che sono gli uffici di collocamento tutto in rete ti verranno offerti in tre anni tre lavori tre lavori se non accetti perdi il sussidio come nel nord Europa ma perché perché e ci guadagneremo togliendo la cassa integrazione ci guadagneremo perché chi non lavora o chi perde il lavoro è chiaro che deve andare a delinquere è chiaro che va a rubare per sopravvivere porca puttana dobbiamo salvare queste persone immediatamente eh Gargamella Gargamella ha detto demagogo cosa vuoi fare dove prendi i soldi dove prendo i soldi dove prendo i soldi un miliardino li prendiamo da rimborsi elettorali dei partiti con effetto retroattivo e ce li danno indietro e se ti dico sai qual è la loro giustificazione ti dicono che la politica ci vogliono i soldi ci vogliono dei soldi per fare la politica è perché è complessa eh lo so che non è vero amico lo so che non è vero perché noi siamo la prova che non è vero noi noi abbiamo rifiutato rimborsi elettorali se andassimo adesso in Parlamento con queste percentuali non lo so quanti saremo ma noi abbiamo già firmato che non prendiamo 100 milioni di rimborsi elettorali 100 milioni per dire di no lo sapete cosa ho provato io che sono di Genova cosa mi sono sentito qua dentro non li prendiamo non li prendiamo non abbiamo preso quelli regionali non ci siamo tolti i vitalizi abbiamo già fatto tutto noi siamo un movimento nato tre anni fa senza soldi senza chiedere niente a nessuno con i me con le televisioni con le televisioni contro con i giornali contro e in tre anni senza soldi siamo diventati la terza la seconda la prima forza politica del paese è fantastico è fantastico io ho bisogno ho bisogno il reddito va fatto subito ho bisogno di sentirmi in uno stato di cui non ho paura viviamo nella paura viviamo nella paura nell'ansia hai paura hai la disperazione hai la paura e in questi momenti che sono crollati i consumi l'economia fanno il redditometro una cosa ma una cosa vergognosa uno studio di settore sulla tua famiglia non si fidano vanno a vedere cosa hai speso sei speso sei mesi fa mille euro chi te l'ha dati mille euro chi te l'ha dati mio nonno e dov'è tuo nonno è morto eh lo studio di settore l'onere della prova in democrazia va rovesciato non devo essere io che dimostro come spendo i miei soldi sono loro che devono dimostrare come spendono i nostri soldi ma è fantastico allora questo movimento questo movimento è una visione è una visione è epidemiologico è una visione di utopie concrete chi se ne immaginava nessuno è una visione a vent'anni dobbiamo osare adesso questo sistema è morto della crescita la crescita la crescita siamo strozzati da un debito che ci sta polverizzando la vita un debito di duemila miliardi su cui paghi cento miliardi di interessi l'anno e non c'è la crescita da compensare vogliono svendere i beni comuni svendere tutto le spiagge i monumenti le cose non devono svendere sono cose che appartengono a noi devono svendere la loro vita e portare via i coglioni da questo paese immediatamente altro che basta la nostra visione è diversa la nostra visione è a trent'anni è a trent'anni è a trent'anni voglio una visione a due generazioni non a due legislature una visione sull'energia molliamo il petrolio e in vent'anni tutto con le rinnovabili e cazzo se ne facciamo le cose è una visione dove le cose saranno fatte con leggerezza dove le cose che facciamo gli oggetti di cui ci circondiamo di cui ci circondiamo dovranno essere fatte con un terzo di energia passare da 6 kilowatt che è il consumo medio pro capita in Europa a 2 kilowatt possiamo farlo domani con l'efficienza energetica e con l'intelligenza i politecnici svizzeri e tedeschi lavorano su questo sono anni che dico queste cose ve lo giuro sui miei figli sono anni togliere 40 tonnellate di materiali i materiali 40 tonnellate a testa andare a 20 tonnellate e da 40 ore lavorative arrivare a 20 ore ci metteremo trent'anni cominciamo adesso i rifiuti passare dal produce manager al service manager costruirgli un altro modo basterebbero due righe due righe di politica la politica è semplice non è complessa ce l'hanno spacciata per complessa in modo che non capiamo e quindi siamo prede di qualsiasi coglione che è lì ma non è complessa allora due righe se tu ti si rompe un frigorifero in Zizzer lo dai in qualsiasi negozio anche se non l'hai comprato lì perché il negozio chiama chi l'ha prodotto perché chi produce il frigorifero è responsabile e si assume l'onere della spesa del frigorifero se va in discarica o va in un inceneritore e allora lo metti lì e allora se noi facciamo due righe una legge così chi fa i frigorifero è responsabile degli oneri di smaltimento farà un frigorifero che non si rompe più oppure se si rompe se si rompe riutilizza i pezzi e in discarica ci va un terzo del frigorifero del frigorifero ma è ma allora ci sono allora abbiamo una schizofrenia totale questa gente in televisione gli economisti del giorno dopo post datate che parlano di spread spending review parlano di derivati l'economia è una cosa seria l'economia è far girare 5 tonnellate di merci con un miliardo di tonnellate di petrolio ed è schizofrenica e dobbiamo riprenderci la vita in mano dobbiamo andare in Europa a interrogarci e a dire signori avete fatto un'Europa che ci piace poco a due o tre velocità non ci piace vogliamo ridiscutere la nostra sovranità monetaria alimentare vogliamo ridiscuterla io giro l'Italia vado in Sicilia le arance siciliane buttate nel cesso perché devi comprare quelle che arrivano dalla Spagna che arrivano dalla Tunisia allora devo ma sono vent'anni che vi parlo di queste cose che c'è questi trasporti schizofrenici e facciamo grandi strutture l'Expo ma che senso ha non ha più nessun senso la TAV il terzo varico la Gronda 7, 8, 20 miliardi e noi sprechiamo queste robe qua quando metà camion in Europa sono vuoti metà container nei porti sono vuoti Cina e India hanno diminuito il PIB di 2 o 3 punti perché pensano al mercato interno c'è una recessione dell'Occidente signori quale crescita dobbiamo sedersi e cominciare a ragionare in un altro modo e allora il reddito di cittadinanza serve a salvare gli ultimi che non muoiono che non si suicidano durante il lavoro e ho parlato con la televisione greca 2.500 si sono ammazzati comprano le cose scadute la gente è lasciata così cominciano a arrivare gli estremisti perché arriveranno anche qua Dio mio c'è qualcosa che non quadra più allora bisogna sedersi trovare i soldi per far sopravvivere la gente io ho detto solo rimborso elettorale ma se dobbiamo fare un sacrificio per almeno 5 anni signori sarà un bagno di sangue per tutti ma lo facciamo tutti insieme non partendo dagli handicapati dalla scuola tagliando la sanità o tagliando la ricerca e l'università cominciamo a tagliare da su subito presidenza della repubblica 242 milioni l'anno 3 3 maserati basta fine dovrebbe lui dare l'esempio toglieri vitalizi dopo incarichi i soldi ci sono togliere 70.000 auto blu sono miliardi di euro li mettiamo dentro una banca di Stato una banca di Stato mettiamoli in soldi lo Stato deve salvare le persone non umiliarle io voglio vivere in i soldi non abbiamo i soldi non abbiamo i soldi possiamo accorpare i comuni sotto i 5.000 abitanti c'è già la legge possiamo togliere le province ho fatto questa manfrina delle province sapendo che non l'avrebbero fatto perché ci sono i loro dentro noi non abbiamo nessuno dentro le province le province sono 11 miliardi ne riusi 4 per il ricollocamento e te ne trovi 7 miliardi allora possiamo fare così andiamo a prendere lo scontrino ho visto io la finanza mandata non è colpa loro certo ma mandata nei bed and breakfast a controllare le api quanto cazzo di miele facevano perché non gli risultava lo scontrino del miele e allora facciamo queste cose qui e poi 98 miliardi di evasione fiscale delle slot machine in concessione allo Stato non succede niente questo è un paese questo è un paese abbiamo un miliardo un miliardo un miliardo di euro per fare le missioni di pace in Afghanistan io non voglio partecipare a nessuna missione di pace in Afghanistan populista poi siamo in guerra poi troviamo i soldi per due sommergibili per gli F-35 togliamo i soldi e togliamo 400 milioni dell'università seguiamo la sanità la Lombardia il 70% della ricchezza di questa regione il 70% è la sanità vi dovete amalare per farvi curare in grandi ospedali dove i direttori sono messi lì o da comunione e liberazione o dal PDL o dal PD la salute è un'altra cosa la salute non è la sanità dove? signore signore ho il più grande amico della mia vita che è venuto a trovarmi ecco bene abbiamo scritto un libro insieme e Repubblica si è anche rifiutata di fare una recensione a un premio Nobel siamo siamo veramente caduti in basso Dario ma però guarda guarda la gente guarda gli sguardi sono cambiati mi sembra di essere tornato indietro di molti anni alla fine della guerra l'ultima guerra mondiale ci fu una festa come questa e c'era tanta gente come siete voi felici pieni di gioia non dico speranza la speranza lasciamo la parte di certezza che si sarebbe rovesciato tutto non ci siamo riusciti fatelo voi per favore fatelo voi ribaltate tutto per favore io mi ricordo che in quell'occasione c'erano quattro contadini che sono arrivati qua con altri contadini e portavano sei piante e le hanno piantate una qua una là una là una là poi sono sparite le piante erano il segno del si ricomincia vorrei anche che questa sera ci fossero quelle piante piantate per dire si ricomincia da capo grazie grazie ma da dove prende tutta sta forza sto matto grazie una forza incredibile c'è un tedesco che mi ha telefonato un giornalista tedesco che mi ha telefonato poco fa proprio poco prima che mi telefonasse il mio amico e mi diceva ma che cosa sta facendo quel grillo se ne sente parlare dappertutto in tutta la Germania l'Austria se ne sente parlare in Jugoslavia più in su in Francia in Inghilterra in Svezia in Norvegia tutti vogliono sapere di questa cosa straordinaria che state mettendo in piedi all'improvviso non mollate per favore non mollate grazie 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 Dario 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 fantastico 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 grande 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 persona vi garantisco che ha qualche annetto ma c'è delle sinapsi straordinarie bene è un paese fatto anche di queste persone è un paese fatto di queste persone è un paese di persone che non ce la fanno ma sono pronte a rifare il paese siamo pronti guardate noi siamo un movimento a parte quello che vi ho detto del reddito di cittadinanza dobbiamo immediatamente fare un'altra cosa la piccola e media impresa io sono andato a incontrarli hanno voluto incontrarmi senza patti senza dirmi nulla mi hanno incontrato e non è una categoria la piccola e media impresa è la colonna vertebrale della nostra economia si sono fumati la grande industria non c'è rimasto più niente ma c'è la piccola e media industria che sta soffrendo ne chiudono mille imprese al giorno 35 imprese chiudono ogni giorno perché falliscono 650.000 negli ultimi anni hanno delocalizzato o chiuso è un'ecatombe bisogna intervenire lì la piccola e media impresa ha il carico fiscale più alto d'Europa al 70% al costo del lavoro più alto d'Europa è incredibile allora li ho incontrati ma hanno detto ci siamo già ammazzati non ci vogliamo più ammazzare dobbiamo puntare su queste cose qui e allora abbiamo messo giù hanno messo giù o metterete giù anche voi una scaletta di proposte per la piccola e media impresa da fare immediatamente immediatamente finanziare la piccola impresa l'abbiamo già fatto cari signori non vi vengo a fare proposte sotto elezioni non ci credeva nessuno questa è un'utopia è un'utopia concreta non credeva neanche nessuno che potessimo andare in Sicilia e diventare la prima forza politica in Sicilia chi è? chi è che ci credeva? chi ci credeva? cazzo mi sono buttato nello stretto di Messina ci sono andati a nuoto in Sicilia a nuoto scommettevano un infarto nei primi 300 metri sono arrivato di là e ci ho messo 20 minuti prima del traghetto e ci siamo e ci siamo ci siamo presi la Sicilia non credeva nessuno Grillo la mafia il voto di scambio non c'è più niente non c'è più una lira non c'è neanche più il voto di scambio e non c'è neanche più la mafia perché la mafia va dove ci sono i soldi e allora e allora col camper paese per paese perfetto ci siamo siamo diventati la prima forza del paese e lì dentro al Parlamento Siciliano perché si chiama Parlamento Siciliano a statuto speciale sono entrati 15 cittadini del Movimento 5 Stelle meravigliosi senti la prima cosa che hanno fatto è commovente perché hanno fatto quello che hanno detto in campagna elettorale hanno preso il loro stipendio da 20.000 euro al mese si tengono 2.500 euro netti al mese di paga e poi aspetta aspetta poi hanno preso la differenza stanno facendo un conto dentro il bilancio della regione non in loro li controllano loro ma della regione e con quei soldi alla fine anno faranno microcredito alla piccola e piccolissima impresa siciliana lo stiamo facendo già quindi non vi devo non mi vengo a raccontare storie bene Damirio dove sei vieni qua vieni qua Pietro Pietro lavora con me a sardo ma da devo parlare devo parlare in dialetto se no guarda io sull'iPad l'iPad o che sei guarda dunque allora abbiamo tutte le televisioni qua abbiamo la televisione la BBC la BBC abbiamo i greci eccoli qua i greci facciamo facciamo i greci sapete cosa succede in Grecia non ne parlano che la gente entra nei supermercati la gente allora gli agricoltori si rifiutano di mandare al macero per le quote frutta e verdura la danno ai cittadini gli agricoltori si sono gli allevatori si sono rifiutati rifiutati di dare il famoso yogurt il più buono yogurt del mondo greco che l'ha presa una multinazionale Müller dovevano imbarcarlo dovevano imbarcarlo per l'Europa perché il miglior yogurt del mondo si sono rifiutati e lo danno gratuitamente alla popolazione ma questa è la Grecia e non dobbiamo scordarlo di dare una mano a questa gente bene la Grecia non ha le cose che abbiamo noi forse la Norvegia non ha le cose la Danimarca l'Olanda la BBC in Inghilterra noi abbiamo un patrimonio che è pazzesco nel mondo che è il Made in Italy che distruggiamo per delle leggi incredibili bene il Made in Italy la prima cosa che dobbiamo fare attribuzione del Made in Italy solo ad aziende che producono in Italia basta la presa per il culo basta ma ci sono delle robe siamo il secondo produttore di olio d'oliva del mondo siamo il primo importatore di olio d'oliva del mondo arriva tutto l'olio di merda qua l'olio lampante dalla Spagna lo tagliamo col nostro ci mettiamo un timbro Made in Italy un euro in più al litro e riparte io giro col camper in tutte le zone di sosta delle autostrade abbiamo 18.000 famiglie che fanno l'olio d'oliva più buono del mondo ha vinto il premio un pugliese l'olio più buono del mondo arrivano i cinesi non lo bevono neanche i cinesi se lo spalmano ad osso perché è un inguento sacro e vai nelle autogrie c'è quell'olio comunità europea da 5 litri e tutti i piccoli produttori che fanno fatica 18.000 famiglie ma questo è la nostra vita è la nostra linfa bene poi migliaia di aziende chiudono non per debito per credito perché lo Stato da te pretende qualsiasi cosa però lo Stato deve dare alla piccola impresa e alla media impresa quasi 100 miliardi di euro non li dà oppure li dà dopo 300 giorni pagano a un anno a due anni tu muori perché muori e allora crediti dallo Stato in pagamento entro 60 giorni anche anche per tutte le piccole e medie aziende accorpamento e semplificazione degli addendimenti fiscali non si può aver paura così questo ansio questa ansia hai paura di tutto in questa Italia qui non c'è mai lo Stato hai 350 mila leggi hai la burocrazia che ha sostituito la democrazia non sai come sei sbagliato il commercialista le cose il fisco hai paura di qualsiasi cosa hai paura anche della tua cassetta delle lettere la vai a guardare piano piano guardi se spunta qualcosa come a poker tiri fuori una volta ti mandavano delle cartoline negli amici bene allora basta questa roba di fisco di roba il commercialista parlavo con la danese dov'è eccola qua questa è la televisione mi dice io gli ho detto ma l'avete il commercialista in Danimarca mi ha detto what is commercialista what is a bona stai zitto ma fatti conoscere dai a bona he's a very wonderful lady he's a compliment he's a compliment he's Italian lady he's gentleman italian gentleman a bona allora noi abbiamo il commercialista loro non sanno neanche che cos'è ma perché io devo andare da un commercialista ma chi me l'ha detto perché se sbaglia poi lui pago io sempre ma perché loro non ce l'hanno perché non ce l'hanno io devo avere un rapporto diverso col fisco molto diverso io voglio andare all'agenzia delle entrate e dire cara agenzia che documenti vuoi per dirmi che è imponibile su cui calcolare le tasse ti do tutti i miei documenti te li porto lì e poi sei tu che mi fai la dichiarazione dei lediti non il mio commercialista ti do anche 300 euro e me la fai in quell'anno lì e poi in quell'anno lì non mi rompi più i coglioni è lì è lì ho reso il nano il nano va lì ti direste l'Imo ti direi da l'Imo in contanti ti ci metti anche 4 milioni di posti di lavoro un set di pentole e anche delle federe allora allora se se qualcuno crede in Berlusconi stasera deve andare a casa aprire la lavatrice e parlare con Mastro Lindo perché esiste ma signori abbiamo 350 mila 350 mila leggi 350 mila leggi ma come si fa se non hai un avvocato come Ghedini non arrivi da nessuna parte hai una causa prescrizione prescrizione hai causa di 10 per recuperare un credito 1.210 giorni di media quando i tedeschi 300 giorni abbiamo 9 milioni di cause 9 milioni 9 300 mila in Gran Bretagna abbiamo un terzo di tutti gli avvocati d'Europa che sono in Italia abbiamo siamo al 138esimo posto in una scaletta della banca mondiale che è su 158 paesi come durata dei processi la macchina della giustizia è ferma oggi quella macchina ferma predilige il delinquente sulla persona normale e chi è? ma è incredibile è incredibile e allora bisogna affrontare delle cose immediatamente renderle più semplici allora il fisco accorpamento e semplificazione degli addentriventi fiscali defiscalizzazione degli investimenti investi nella tua azienda io ti proteggo vai avanti e la tua azienda rimetterà in circolo i soldi che hai investito chiusura di Equitalia perché bisogna chiuderla dopo aver fatto la modifica ma è semplice lo dicono in televisione hai capito? allora dicono di togliere l'Imu la gente che l'ha votata cercate di capire questa gente qua cercate di capire che questa gente qua vuole un accorpamento contro il movimento di tutti i partiti cercate di capire che abbiamo questo Monti padre Merrill l'esorcista che vive in un altro pianeta padre Merrill ha detto che bisogna lavorare fino a 70 anni hai capito? quando abbiamo una disoccupazione giovanile che fa paura che ci vadano loro a lavorare fino a 70 anni aspetta aspetta noi dobbiamo tornare indietro in pensione a 60 anni dove prendiamo i soldi? dove prendiamo i soldi? abbiamo 100.000 persone in Italia la popolazione della Val d'Aosta che percepisce una pensione che va da 10.000 euro al mese a 92.000 euro al mese si mette un tetto massimo di 4.000 netti e il resto 13 miliardi si danno alzando la piccola pensione alla pensionata alla minima si possono fare un sacco di cose sconti contributivi per assunzioni sotto i 35 anni assumo ti tolgo i contributi eliminazione dell'Ira un'estorsione più assumi più ai costi più paghi tasse ce l'abbiamo solo noi al mondo defiscalizzazione dei redditi nei primi due anni di vita di impresa i ragazzi apriano una partita IVA sono sempre lì con l'Inps contributi si ammazzano basta basta io voglio uno Stato voglio uno Stato che si riprenda la scuola pubblica la sanità pubblica l'acqua pubblica le autostrade pubbliche stiamo sognando stiamo sognando lo vedremo il 27 se questo sogno per noi diventerà un incubo per quegli altri hanno una paura fottuta saranno 5 giorni di fuoco mi aspetto qualsiasi roba titoli sui giornali fascista nazista sono di estrema destra o di estrema sinistra odio le donne odio i gay odio i bambini chissà cosa si inventeranno 5 kg di coca in macchina potrebbe essere allora ve lo dico cosa si inventeranno hanno messo il mio indirizzo su tutti i rotocarchi il numero di civico il numero di ho dovuto mandare i miei va bene andiamo avanti ancora per 5 anni chi se ne frega andiamo avanti per 5 anni hanno fatto dei titoli hanno fatto dei titoli su repubblica dove io incito al cheida di bombardare il parlamento italiano ma si può fare un titolo così cazzo me l'ha detto quello della BBC ma l'ha detto ma è vero ma che cazzo è vero solo che ho ricevuto 540.000 mail dicendo dai convincili una buona volta allora allora signori signori noi abbiamo ci stanno seguendo tieni ci stanno seguendo da tutto il mondo le televisioni perché 35.000 in 35.000 in streaming è finita è finita bene ci stanno seguendo anche perché noi noi abbiamo fatto per la prima volta nel mondo delle elezioni online io ho votato da casa mia a 65 anni non sono un pivello ho votato ho guardato i candidati della mia circostizione la Liguria erano 25 ho votato una professoressa Maria di tre figli ho votato un ragazzo di 25 anni che è precario è un ingegnere ha fatto tre click senza spendere un euro senza chiedere un euro a nessuno con un click da casa mia è quello che vorrei vorrei che oggi decidessimo noi allora la prima cosa che faremmo ora la legge di cittadinanza la piccola media impresa è inserire nella costituzione i referendum propositivi senza quorum in modo che l'ultima decisione spetta ai cittadini e qualsiasi decisione se stare nell'euro non stare nell'euro non lo dirà non lo dirà un partito politico un segretario di partito ma lo dirà con un referendum il popolo italiano per la prima bene abbiamo votato abbiamo votato ed è successo un miracolo ci sono poche donne nel movimento perché perché lavorano nella famiglia è comprensibile ma le poche donne che sono state che sono in cima alla lista noi metteremo in Parlamento se deciderete perché ce li avete qua le persone per la prima volta potete guardarle criticarle amarle odiarle e non votarle ce l'avete da due mesi davanti questa si chiama democrazia noi non cambiamo noi non siamo non sono sono tutta gente lombarda sono di qua o di Milano o della circosizioni o della provincia o della Lombardia non ci sono liste civetta con magistrati che ci mettono la faccia con dietro tutto un curricula di gente strana qui non ci sono figli figli di 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 capitani di industria non ci sono non ci sono campioni mondiali di canoa sono gente semplice e normale e saranno più donne in Parlamento che uomini questa è una grande soddisfazione grande e e li vedrete e non sono donne con le bocche di polistirola e i culi di gomma sono donne che lavorano che tirano sulla famiglia donne con due coglioni così eccole le donne lombarde venite là venite dai attenta grazie Beppe grazie io mi chiamo Paola Carinelli sono candidata alla camera per la circoscrizione Lombardia 1 Silvana io molti di voi in questi giorni in queste settimane mi hanno chiesto cosa faremo quando saremo a Roma cosa faremo quando saremo in Parlamento noi in Parlamento porteremo il programma del Movimento 5 Stelle ma anche i valori del Movimento 5 Stelle onestà onestà trasparenza rispetto delle regole e lotta ai privilegi vi faccio un piccolo esempio è una cosa di cui sicuramente abbiamo già tutti quanti sentore ma i numeri sono molto esemplificativi qualche giorno fa leggevo un sondaggio una ricerca di Open Police sulla produttività e sulla presenza dei parlamentari in Parlamento secondo questa indagine i parlamentari lavorano alla camera 80 giorni l'anno in media e al senato 50 giorni l'anno e poi vengono a chiedere a noi di fare i sacrifici a noi chiedono i sacrifici queste persone fanno un doppio lavoro e poi si prendono i nostri soldi per fare un altro lavoro cioè noi dobbiamo dire basta ai doppi incarichi basta le doppie e le triple poltrone tutti a casa 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 i nostri consiglieri nelle regioni nei comuni hanno dei tassi di presenza che sfiorano il 100% e noi faremo così anche in Parlamento perché siamo convinti che oltre ad essere un occhio all'interno delle istituzioni dobbiamo essere un esempio per la gente che lavora è più difficile dire le cose come stanno perché loro hanno una convergenza su tutti i punti del programma che è impressionante lo dimostrano le tribuna politica che abbiamo proprio fatto l'altro giorno sono tutti a favore delle grandi opere sono tutti a favore delle grandi infrastrutture che continuano a cementificare la regione Lombardia che è la più cementificata d'Europa la più inquinata d'Europa con un'infiltrazione della criminalità organizzata ormai alle stelle e con un continuo lavorio di questo genere non usciremo da questo degrado continueremo a ragionare su questi aspetti che ci portano a un continuo degrado e lo sanno loro perché questo proprio sfruttano loro loro sfruttano il project financing che serve per fare una finta sostenibilità economica ci dicono che usano soldi dei privati che a conto economico quindi funzionano quando invece sanno benissimo che quando loro non riusciranno a sostenere i loro investimenti e dovranno buttarci ad osso il loro debito quali saranno i nostri soldi soldi pubblici per finanziare ancora le loro opere che continuano a soffocarci a farci ammalare per farci curare questa è la loro visione della regione Lombardia e allora noi abbiamo proposto di fare già una giunta regionale a 5 stelle la stiamo già creando e la stiamo creando raccogliendo il curriculum per assessorati e stanno arrivando tantissimi curriculum di persone competenti in materia ed è con loro che costruiremo davvero una regione Lombardia a 5 stelle ma per andare avanti davvero su questo percorso nuovo rivoluzionario abbiamo bisogno ancora di tutti voi perché voi non dovete andare a votare e delegare in toto qualcun altro mettendo solo una X un giorno ogni tanto uno ogni 5 anni ma dovete continuare a starci addosso a controllarci a suggerirci a darci quella che è la vostra voce perché noi non rappresentiamo nessuna lobby nessuna casta noi siamo singoli cittadini che hanno bisogno di voi per poter lavorare e poter rivoluzionare la regione Lombardia l'ultima nota come dire un po' più tecnica e poi posso stavare l'ultima nota tecnica perché ho sentito spesso in questi giorni dire che si andrà il balottaggio per la regione Lombardia signori c'è un voto unico in un'unica tornata e quindi ciò che conta è fare due x due il 24 il 25 uno sul candidato presidente che è già prestampato e l'altro sul simbolo del Movimento 5 Stelle per votare il consigliere della propria provincia poi a seconda della provincia chi vuole può esprimere la preferenza scrivendo il cognome del candidato consigliere ciò che conta però è la doppia x e non ci sarà nessun balottaggio voto unico mi raccomando grazie buona democrazia a tutti signori grazie è finita ancora tre giorni e poi metteremo dentro un centinaio di queste signore signori qua e che non avranno scampo apriremo il Parlamento come una scatoletta lì intorno questa torre e e non avranno scampo vi faremo vedere inciucci inciuccetti voti elettronici voti palesi nascosti dove vanno a finire nelle commissioni i soldi dove sono appalti i contrappalti i mogli ed amanti non hanno più scampo arrendetevi perché siete in tempo arrendetevi non vi faremo del male arrendetevi arrivederci grazie 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 e adesso un saluto all'interprete della lingua dei sordi e facciamo un saluto ai sordi presenti è questo grazie porteremo la lingua dei sordi in Parlamento che diventi una lingua ufficiale grazie a tutti arrivederci grazie non so quante volte ci siamo impallati a vicenda ma è stato bello lo stesso aspetta questo momento io lo devo fotografare dai in fretta però mi prego io lo voglio la fate ahah ahah vai basta basta ok ascolta la parabola il tempo di smontarla però si si perdonami ma no ma perdonami tu impiattiamo che una volta io ho imballato te ti fai a montare? esista ok tempo di smontare a me è tanto prima che vai di là allora ragazzi che ne dite dell'intervista a Dario Po